Ciao RupaldoGamer, ciao anche a tutti gli iscritti del mio amico, mi raccomando siate attivi nel suo canale, io sono Silvi95 e mi presento, attivi nel senso, guardate i suoi video, commentateli, magari se non sempre, anche ogni tanto, però fatevi vedere che siete iscritti attivi, anche da lui, perché a me piace essere appunto un'iscritta attiva Ciao Silvia, grazie per questo saluto e ovviamente ragazzi troverete il suo link del canale qua sotto in descrizione Benvenuti nel canale di RupaldoGamer Allora ragazzi, questa rubrica è una cosa un pochettino diversa in quanto io, come vi ho già annunciato nello SpecialE500, dovrò portare nel mio canale un nuovo format dove porterò delle storie horror, delle storie vere o comunque sia delle storie spaventose Questa diciamo che è una challenge di introduzione a quello che avverrà nei prossimi mesi all'interno del mio canale Ok ragazzi, primo video Non ci siamo spaventati ragazzi, siamo veramente ragazzi coraggiosi Questo qua tutto dura, 4 minuti È un test È di cosa? Zombie, no, eh, ci vengono da voi kinder da scoppio C'ho paura degli zombie, anzi, magari ci fossero Un erotico di Laura Sono fatti anche male questi Qua che sono le tue favore, di nuovo Non lo so, bisogna guardare Non lo so, bisogna guardare Grazie a tutti 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 You forgot to look under the bed Of course Sorry buddy Daddy there's somebody in my bed Oh my god 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 E mi raccomando ragazzi Se vi è piaciuto Lasciate un like Spollicciate Lasciatemi un commento Per sapere il vostro parere Se vi è piaciuto Se ne volete ancora E iscrivetevi al mio canale Per continuare a seguirmi Quindi ci vediamo Per un prossimo episodio Un saluto a Rubaldo Ciao